Lei ha parlato di regalo alla città per questa operazione e l'intesa con il Comune, pur non condividendo di fatto questa operazione. Sì, no, non l'ho condivisa perché secondo me ritengo che ci saranno diverse difficoltà per questa amministrazione per poter mantenere in equilibrio la gestione sportiva dello stadio. Io ho voluto chiudere la partita perché prevedendo un risultato positivo, forse da parte dell'arbitrato, positivo non che avessi vinto l'arbitrato ma anche con un numero di anni richiesti inferiore, noi avremmo restituito sicuramente la concessione e di fatto questo ci permetteva di richiedere all'amministrazione comunale il residuo del valore dell'opera che restituiamo, che dai calcoli da noi fatti supera i 9-9 milioni e mezzo. Nel frattempo avremmo dovuto tenere, finché l'amministrazione non avesse pagato questa somma, avremmo dovuto mantenere chiusa la struttura. Quindi credo che ridare subito lo stadio in questo modo, rinunciare a somme ben più importanti rispetto a quelle che oggi andiamo ad ottenere, penso che si possa definire chiaramente, senza ombra di equivoco, un regalo alla città. Mantiene o lascia la gestione estiva e commerciale? Se nel momento in cui nei prossimi tre mesi non ci sarà nessuno che risponderà al bando del Comune offrendo una cifra superiore a quella della base di gara, su cui io mi sono impegnato a coprire, manterrò, dovrò andare avanti su quell'attività assolutamente, altrimenti magari qualcuno mi sostituisse. In conferenza ha detto che ha seguito anche attentamente il Consiglio Comunale, togliendosi dei sassolini anche nei confronti della minoranza. Ma torno a ripetere, la minoranza secondo me ha perso una grande occasione per fare la minoranza. Doveva attaccare questa amministrazione sotto il punto di vista politico, dicendo che forse non era così prioritario prendere in mano uno stadio, forse era meglio dare una concessione che ti garantisce, ti toglie tanti problemi, forse anche rivedendo qualche piccola regola, perché guardate che la concessione è assolutamente valida, perfetta. Quello che si è detto e si è paventato, c'è stato solo un grosso vociare da parte di questi fascinorosi, di quei pochi rancorosi che hanno montato un clima di odio a cui il sindaco scioccamente c'è caduto dentro e ha voluto riprendere. Lei ha anche detto che da cittadino vigilerà sui potetici favoritismi che potrebbero essere fatti dall'amministrazione verso la squadra della città in caso di futura gestione appunto della squadra dello stadio. Sì, perché credo che sia giusto che questo stadio debba avere un suo equilibrio economico. L'equilibrio economico lo si determina dai costi e dai ricavi. Quindi se il città di Termo non sarà in grado di poter sostenere i costi e quindi chiedere degli sconti, questo non va bene, non va bene non per la squadra di calcio, ma per il rispetto di tutti gli altri sport, anche delle altre attività sportive o di eventuali altre attività a cui il comune dovrà rinunciare per favorire una squadra di calcio. La squadra di calcio, torno a ripetere, non è un ente benefico, è una società di capitale, è una società che fa profitti utili, perdite, sicuramente fa solo perdite, e quindi chi vuole tenere una squadra di calcio si deve cappiare, deve tirare fuori i soldi se uno vuole fare presidente. Se ha i soldi, lo fa, altrimenti non possono essere gli altri che gli danno per farlo divertire. Quindi io vigilerò che questa gestione, perché quando sono stato io presidente, sia della squadra di calcio che di questo stadio, non ho chiesto i soldi a nessuno. Chiedete un po' al sindaco se sono andato ad avere qualche favoritismo. Nessun favoritismo ho ottenuto, anzi, anzi, li ho tirati ben tanti fuori i soldi.